L'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta alla sepoltura del corpo di Giuseppe Daniele Taglia Pietra, l'operaio di 29 anni di Altavilla Vicentina morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto alla Tecnomat sabato scorso. L'autorizzazione è stata concessa dopo l'autopsia disposta dalla procura per stabilire l'esatta causa del decesso avvenuto a seguito di un devastante trauma cranico. Il giovane operaio sarebbe stato travolto da un pesante bancale carico di finestre che stava movimentando nell'area esterna di carico e scarico dell'azienda. Per questo è stato avviato un procedimento penale per l'ipotesi di omicidio colposo a carico del datore di lavoro. Le esegue di Giuseppe Daniele Taglia Pietra che lascia una figlioletta di 11 anni saranno celebrate ad Altavilla Vicentina martedì prossimo 22 ottobre nella chiesa parrocchiale del Santissimo Redentore alle 14 e 30.